Un miliardo e mezzo di euro nel triennio 2025-2027 è quanto prevede di destinare alla difesa la Commissione europea con la prima strategia industriale dell'Unione per il settore. Due anni fa l'inizio della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha segnato il ritorno di un conflitto ad alta intensità nel vecchio continente. Per questo la Commissione propone una visione chiara e a lungo termine per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivo di sistemi di difesa. Bruxelles con questa proposta legislativa invita gli stati membri ad acquisire almeno il 40% del materiale di difesa in modo collaborativo entro il 2030 e a garantire che entro la stessa data il valore degli scambi nel settore all'interno dell'Unione rappresenti almeno il 35% del comparto. L'obiettivo della Commissione è passare dalle misure di emergenza a breve termine adottate nel 2023 e fino al 2025 a un approccio più strutturale e continuo. Sul piano normativo la strategia propone un nuovo quadro giuridico per facilitare e intensificare la cooperazione degli stati membri in materia di difesa.